Assoluzione con formula piena per non aver commesso il fatto per il presidente dell'IRSAP, Alfonso Cicero. Il procedimento riguardava la presunta inosservanza dell'ordinanza sindacale messa dall'allora sindaco Michele Campisi riguardante la tutela della salute pubblica. Il giudice monocratico del Tribunale di Caltanissette, la dottoressa Angela Gagliano, ha pronunciato sentenza di piena assoluzione per Cicero, così come peraltro sollecitato dallo stesso pubblico ministero, Maria Pia Galante. A difendere il presidente dell'IRSAP e gli avvocati Licia D'Amico e il professor Alfredo Galasso. L'ordinanza emessa da Campisi chiamava illegittimamente in causa il consorzio ASI di Caltanissetta in qualità di proprietario. Gli adempimenti erano invece a carico del gestore, la cooperativa Le Verdi Madonie di Genacisicolo, che aveva illegittimamente subaffittato la struttura alla società TRMSRL di Paolo ed Angela Randazzo, padre e figlia di recente condannati ad un anno e sei mesi per macellazione di carne in stato di putrefazione, processo in cui il consorzio ASI e la parte civile ottenendo una provvisionale immediatamente esecutiva di 30.000 euro. Come sempre ho posto la totale fiducia nello Stato e nella magistratura rifiutando la possibilità di un'oblazione e scegliendo di andare nel merito attraverso un procedimento che oggi mi vede pienamente assolto, afferma il presidente dell'IRSAP Alfonso Cicero. Voglio però sottolineare l'incredulità e l'amarezza che rimangono in questa vicenda. Nell'ambito di un rapporto di collaborazione tra istituzioni, il consorzio ASI aveva messo il sindaco Campisi in condizione di risolvere la vicenda del frigo macello. Inaccettabile e assurdo, prosegue Cicero, che un sindaco che aveva il potere e il dovere di ripristinare la legalità abbia invece attaccato chi come me condusse una battaglia per riportare la gestione e l'impianto dentro le regole, denunciando lo scandalo del frigo macello e degli ambienti opachi e collusi che avevano fatto da proscenio a tutta la nota vicenda. Avevo anche predisposto un bando per poterlo affidare, prosegue Cicero, e mi sono invece trovato un sindaco che in modo inaudito si è scagliato a conto di me, salvo poi in aula asserire di non saper quasi nulla di un'ordinanza che egli stesso aveva firmato, cercando di dare responsabilità ad altri all'interno del comune. Aggiungo che ancora deve essere riconsegnata la struttura all'ex consorzio ASI, nonostante vi sono delle precise ordinanze del Tribunale di Caltanissetta. A tal proposito ho denunciato di recente alla Procura della Repubblica di Caltanissetta le Verdi Madonie anche per inottemperanza la citata ordinanza e altri fatti. Il sindaco, spiega l'avvocato Alfredo Galasso, sarebbe potuto intervenire, avrebbe potuto sequestrare l'impianto e non l'ho fatto e non so per quali suggerimenti interni o esterni ricevuti. Sul frigo macello, secondo l'avvocato Galasso, vi sono responsabilità di una serie di appartenenti a un sistema di potere criminale politico e in parte mafioso, dovuto al fatto che in questi anni la struttura è stata gestita da una cooperativa, Le Verdi Madonie, e a sua volta dalla società TRMSRL, che ha ridotto il frigo macello in condizioni tali da subire una condanna per reati contro l'igiene e la salute pubblica e ha reso inutilizzabile tuttora un bene destinato alla collettività. Tutto nasce purtroppo dal solito e consueto progetto di accaparlamento e sfruttamento politico mafioso, conclude il professor Galasso. Il presidente Cicero, aggiunge l'avvocato Licia D'Amico, ha fatto molto più di quello che da proprietario doveva fare perché ha compiuto attività di controllo e di stimolo. Certo non poteva ottemperare ad un'ordinanza che atteneva al gestore del frigo macello e in alcun modo all'asi.